Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con Tec e Yoko Comunque siamo sul server di Mineplex a fare finalmente Evolution Quindi ci evolviamo oggi, ci evolviamo, dice evoluzione Ok eccoci nella prima partita per chi non si ricorda come funziona il gioco, noi siamo dei golem, bisogna uccidere gli altri golem Gli altri golem per essere più grandi dei golem e diventare diversi dei golem E poi quando ne uccidiamo uno ci evolviamo in lezzi No lezzi non ancora E' pieno di gente quindi non riuscirà a fare nulla Sì infatti c'è un disastro lì Ma non capisco nulla veramente, vado avunque a caso Questo è che salta, mi ero scordato della skill Questo è un problema Ok c'è già uno che è a livello successivo Io per esempio Ah cavolo sei te è vero Ma io voglio andare, no dai ho finito Ma dai ma qui sono in tre come cavolo faccio Tec mi raccomando Sono rimasti in tre Non andare contro di me Non so dove sei Ma guarda è meglio così forse Non saprei dove sei Non ci sono Dai E ora Perché non vuole ammazzare questo qua? Divento un blaze Sono diventato Eren Eren Che bello C'è già un Guarda che c'è già un coso Un ragno Due ragni Due ragni Si vede a destra Eh raga Stiamo a darci una mossa E pesa lo so Però lag Sì in effetti Laga bestia L'ho visto che stava tirando un pochettino delle laggatine Però ho detto vabbò dai Sti cazzi Per dire Ah un gioco lagga da tipo 5 mesi Ma che cazzo ce ne frega a noi Sì ma ovviamente intanto Cosa gli ne frega a loro Ok Ma no ma non l'ho ucciso Oh Sono un ragnetto Davvero Dai forza ragazzi Sono un ragno No 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 C'è uno qua C'è uno qua Ok Ma che è sto mancendo qua No 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 Bimbi 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 Aiuto Tec non mi uccidere Tec non mi uccidere Ti sto aiutando Ti sto aiutando Ti sto aiutando Eri in mezzo Eri in mezzo Ero morto Volevo aiutarti Non ho vinto Cavolo Ma figa Questo qua Avevo mezzo cuore Non muore questo Eh no ci sono i legge Non muore Tanto che Tipo quella big vita No perché se tu fai una kill Perché a me ti dirà la vita No tec Madonna ti sei messo in mezzo Mentre tiravo le cose Ma non sono io Non sono io Dai però No no ti sei messo in mezzo Mentre tiravo No quella è Jaco Eh sì Jaco è un traditore Vieni qui È un traditore Sì sì Oh Gio 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 Ci ha attaccato tutti Per un velo Ma io volevo salvarti In verità Stavo salvando da Jaco Ma io sto Per un velo Jaco guarda che mi hai attaccato tutto il tempo Ma se stavo riprendendo te Non sono mai toccato Cosa Ma vai schifo al cazzo Ma guarda In tutto questo Mi sto cazzeggiando Faccio kill E non mi evolvo Quindi Un genio Non evolverti Giustamente Ma cosa vuole te questo Via No no Quanti sono qua Uno sono io Eh lo so Ma io sono morto Non so se Se ti ho dato un vantaggio Ma Non lo so Non penso sinceramente Eh non so Voglio Scappare da questo qua No No ragazzi C'è già uno slime Eh cosa vi devo dire Sì vabbè No no C'è il mondo Qui c'è il mondo Non prendetevela tutti con me Madonna Non ci cedo io Io non sono da te No no Che c'era il mondo intero Lì da me Madonna Ma si schiena Sono tra di loro Ma basta 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 Ah quello è Jaco Ma figa Ma figa E ormai mi è pubblicato col destro E se tu uccido Basta Sei vendicativo Confortami gli attacchi E istinto Ma anche Evolution Si riesce a litigare Anche su qua Bì ma io vedi i nomi sottoterra No Jaco cosa fai Jaco Jaco C'è uno dietro Jaco Dai basta raga Oh però Eh No c'è Jaco lì No io volevo questo Vado il creeper voglio Ma ragazzi Difendimi Difendimi Io vedi i nomi sottoterra Eh sì però Lasciami stare Allora Lo mazziamo o no Sto creeper Ok l'ho ammazzato Cioè io che sono bloccato Al blaze è triste No 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 Muori muori Eh ma sono Sono secondo C'è già uno pollo Mi sa Eh È un pollo C'è già un pollo Difendimi No scusa Non pensavo che eri tu Scusami Jaco Non lo sapevo Non avevo capito Jaco attaccato da tutti Sei girato Ho schiacciato il bottone No ma io volevo Sì l'ho visto il pollo Ho visto il pollo Ho visto il pollo Per il pollo Per il pollo Ok l'ho ucciso L'ho ucciso No no Non è ucciso Sì l'ho ucciso Ah no era un altro Allora sono due polli Eh ciao Ecco ne ho visto uno Ne ho visto uno L'importante ragazzi È non fargli fare le kill Ecco il pollo Ecco il pollo Ecco la Eccolo Terza evoluzione Lezza Ecco che anche la seconda partita No non è nuova Io mi sa che l'avevo già fatta Ma non ne sono sicurissimo Sì è una delle prime Sì penso di sì Forse Tec non l'ha mai fatta Perché lui È una brutta persona Perché sono Le Sei lezzo Ecco perché Ma io che rincorrumolo Chi è È la madonna ragazzi Ma qui c'è il macello Erano tutti qua Erano Eh la peppina No 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 Dai muori Dai 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 Si fa uccidere da me Evolvidi Oddio ce l'ho fatta Ma Uffa Attenzione Metano che si porta subito In vantaggio però Eh bimbi E c'è anche Eh vabbè Pieno però di blades Ma cos'è L'evoluzione L'hanno già fatta tutti qui No non è vero Io sono un blades Anch'io Un vero blazer Si sono Ma no no Ho fatto le stragi Prima di potermi evolvere Tipo ne ho uccisi due o tre Non lo so E si passa anche al Ragno Incredibile ragazzi Incredibile Che sia una partita fortunata Tutta fortuna sto gioco Si assolutamente si Dipende da quanti nemici c'è intorno Quindi è tutta fortuna Chi laurea Chi laurea Al Alfil Allora ci sto attento Se lo vedo scappo Trovate uno che si chiama Alfil Chi laurea Vediamo No ci sono uno dietro Oddio Forse non lo so Se la sta prendendo con uno Ma non l'ho capito Sinceramente Pazienza anche se è così Vediamo No ce l'ha fatta evolversi Che lezzo Vabbè comunque non ce l'ho fatta vedere Se effettivamente aveva qualcosa Oppure no Muori tantissimo Muori tantissimo Anche tu Ragno Multizampa Ok Sì 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 Prendere a distanza Però Ma come cavolo ha fatto a salire Ah già è vero Perché lui ha lo slime Ragazzi lui vince easy Però così eh Eh vabbè Ah già lo slime Ti fa capire che No no È già pollo È già pollo È infatti Ti fa capire che usa chi laurea Cioè no ma In effetti Mi ha colpito Mi ha colpito in modo un pochettino Boh Però non Cioè ripeto Boh Che inutile Che persone E vediamo Se ora vince subito Mi sa che un po' Come dire eh Eh sì che eh Vorrei trovarlo Giusto per esserne sicuro Grazie Iaco Ha vendato il passivo Ma guarda che prima non Vabbè Ma non ti ho visto Non ti ho visto adesso io No 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 Ma vedi Figa Partita abbastanza Lezza Ecco E Le vince così Lui Vabbè Ok Però io ero terzo Due evoluzioni ho fatto Cioè ma se scrivessi Disac Così Quello Quello era veramente citerino Ok eccoci anche Nell'ultima partita Siamo sempre in un'altra mappa Che forse era quella iniziale Non lo so Ma ci sta comunque E bisogna stare attenti È un tipo che Forse Ha detto Forse ha detto Che ha Sì sì È già qua Guarda si sta già evolvendo Davvero? Non ci credo Guardalo È già alla prima evoluzione Sì 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 Ma Ok ce l'ho fatta Ora mi evolvo pure io No comunque Allora È un cheater Ok Però È un coglione Lo possiamo forse ancora contrastare Cioè non penso sia così impossibile No è già la seconda È già il secondo livello Ma Sì vabbè ma allora ciao In una corsa contro il tempo qui eh È già Adesso diventerà il terzo No no Ragazzi Cerchiamo di farli per Non c'è modo Non è che siamo blades Non c'è modo di ucciderlo In qualche modo strano No non c'è È già a quarto È già a quarto No quarto è impossibile Che cosa c'è Salta il terzo Adesso diventa terzo Ok terzo No 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 Eccolo Il creeper Adesso Ma sì perché ti uccide all'istante Praticamente Eh vabbè Adesso diventa dopo il creeper È già quello dopo eh È il quarto Ma che cavolo succede Ma io sono morto Mmm Non l'ho ben capito Vabbè Sono morto Adesso è già quinto Ma davvero tu lo vedi al quinto Eh adesso arriva al quinto Sì adesso Si sta evolvendo Ragazzi ma del tipo che a me si è bloccato tutto No perché presente sai cosa ha fatto Prende ti guarda E ti uccide in un colpo O due massimo Ma E adesso finisce Eh vabbè è già al quinto Quindi pollo E beh io sono a zero Almeno io un'evoluzione l'ho fatta Eh sì ma che cos'è Ma Che lezzo però Ha acceso Eh chi laurea Eh vabbè Vabbè Sto coglioni di merda La gente che usa cheat Proprio GG Veramente Ma si può reportare Per evolution Infatti anche in chat Nice hack E vabbè Quindi ragazzi abbiamo fatto tre partite Ma Boh Lezze Assurde E poi è diventato praticamente ingiocabile Mi sarebbe piaciuto veramente farle a modo E magari più lunghe E magari anche più di tre Ma Eh seriamente Stava cominciando a laggare un po' troppo E ho trovato C'era il Citerly Che non poteva Non voleva nemmeno uscire dalla partita Quindi C'è poco da fare E quindi De Comunque i canali ovviamente di Iaco E Tec Li trovate nella descrizione Spero che questo video Molto molto Lezzo Vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti